Gentile ministro, le assicuro che risulta estremamente frustrante scriverle una nuova lettera, ma sento forte il dovere di rappresentare le istanze di decine di migliaia di utenti del servizio regionale che stanno pagando il prezzo conseguente al proliferare senza soluzione di continuità di servizi alta velocità. Comincia così la lettera inviata al ministro Danilo Toninelli dall'assessore regionale all'infrastruttura e trasporti Vincenzo Ceccarelli. Da mesi, prosegue l'assessore, continua a recepire segnalazioni da parte di cittadini ed amministratori pubblici. Sulla linea retina il servizio cadenzato con orario mnemonico su cui si era faticosamente costruito un sistema integrato ferro-gomma in tante stazioni è stato smantellato, perdendo le corrispondenze fra i vari vettori. I treni modificati nell'orario inoltre non si contano più. Proprio per poter affrontare in modo costruttivo una riflessione sui temi accennati ricorda l'assessore Ceccarelli e ho scritto lo scorso mese di giugno per chiedere un incontro da estendere anche ai comitati dependolari anche e soprattutto in considerazione delle molte dichiarazioni da lei rilasciate nelle quali ha sempre ribadito la centralità dei diritti dependolari nelle strategie del governo in tema di trasporto pubblico con particolare riferimento a quello su ferro. A questa lettera sottolinea Ceccarelli non ha avuto alcuna risposta. Se il ministro continuerà ad essere sordo rispetto alle nostre sollecitazioni e le autorità competenti continueranno a consentire questo che ormai è lecito definire un soppruso ai danni dei più deboli, fa sapere Ceccarelli, credo che non resterà altro da fare se non assume iniziative meno istituzionali per essere ascoltati.